Preghiamo insieme la Via Crucis al Volto Santo. Preghiamo insieme la forza di accettare la sofferenza con generosa rassegnazione. Illumina la mia mente, scuoti la mia indifferenza e insensibilità. Fa che possa acquistare, per me e per i miei morti, le indulgenze che meritiamo. Prima astrazione. Gesù condannato a morte. Santa Madre, devo i fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Signore, è vile e malvagio quello che fanno gli uomini, ma l'ho fatto anch'io, quando ti ho condannato ad andartene dal mio cuore, dove ti volevo obbligare ad assistere ai miei peccati. Perdonami, Gesù, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per la tua morte e la tua sepoltura, abbi pietà di noi, o Signore. Per i dolori sofferti sulla via del Calvario, abbi pietà di noi, o Signore. Per la tua croce e per l'abbandono del Padre, abbi pietà di noi, o Signore. Per la tua agonia e passione, abbi pietà di noi, o Signore. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. Seconda stazione Gesù caricato dalla croce Santa Madre, devo i fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Fa, o Gesù, che sul tuo esempio sappi accogliere la croce con semplicità e generosità. Aiutami a portarla con coraggio, costanza e silenzio. Illuminami a capire che, dove c'è una croce, ci sei tu, sempre disposto ad aiutare, come un dolce amico, tutti coloro che tu chiami a portarla. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. O cuore di Gesù, disprezzato ed umiliato, perdonaci, Gesù. O cuore di Gesù, nostra pace e nostro perdono, perdonaci, o Gesù. O cuore di Gesù, paziente e pieno di misericordia, perdonaci, o Gesù. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose, segna tu, dentro di noi. Terza stazione Gesù, cade la prima volta. Santa Madre, devo i fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Signore, aiutami a capire che qualcuno c'è che mi vuol sollevare la croce. Fa che non lo veda come un invadente nella mia tristezza, ma come fosse la tua mano, la tua voce, il tuo sorriso. Ed aiutami anche a capire che qualcuno può essere caduto sulla mia strada, perché io l'aiuti a rialzarsi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. Quarta stazione, Gesù incontra la Santissima Madre. Santa Madre, devo i fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Signore Gesù, nelle ore più tristi della vita, fa che non manchi l'incontro con la tua e mia madre. Fa che io possa chiamare, anche in quell'ora, mamma, con accento consolato e fiducioso, ed ella mi possa rispondere, figlio, con la voce che invita e consola, rasserena e fa eroe. Gesù, lascia la tua mamma vicina a me. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Madre di Dio, prega Gesù per noi. Madre dei poveri, prega Gesù per noi. Madre dei sofferenti, prega Gesù per noi. Madre dei tribolati, prega Gesù per noi. Madre di quelli che sperano, prega Gesù per noi. Madre degli orfani, prega Gesù per noi. Perché le tentazioni ci rendono difficile il bene, prega Gesù per noi. Perché ci sei, Madre buona, prega Gesù per noi. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. Quinta stazione, Gesù, aiutato dal Cireneo. Santa Madre, devo i fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Mi fa invidia, Gesù il Cireneo. Anch'io vorrei aiutarti a portare la croce. Forse sono troppo piccolo e debole, ma ho tanto cuore, Gesù. E so che tu non cerchi uomini forti, ma amici che soffrono con te, che amano i fratelli e che sono pronti a starti vicino anche quando costa sacrificio. E poi, Signore Gesù, so anche che se soffro con la croce sulle spalle, tu sarai il mio Cireneo. Grazie, Gesù. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonaci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Quando il demonio mi tormenta, aiutami, Gesù. Quando il bene è tanto difficile e il male è tanto facile, aiutami, Gesù. Quando mi par d'essere solo a portare la mia croce, aiutami, Gesù. Quando ho tanta voglia di piangere, aiutami, Gesù. Quando non sono capace di aiutarti a portare la croce, aiutami, Gesù. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. Sesta stazione La Veronica asciuga il volto di Gesù. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Hai risposto, o Gesù, con un miracolo al gesto della Veronica. Il tuo volto è rimasto nel mondo sul lino che ti asciugò. Ma il tuo volto ora lo hanno ereditato i poveri, i sofferenti, gli abbandonati. Insegnami a riconoscerlo. E se qualcuno cercasse in me il tuo volto, o Signore, dammi la fede che guidò la Veronica a riconoscerti sotto un volto insanguinato, per riconoscere nella mia vita ciò che è segnato dalla tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Della dimenticanza degli uomini ti vogliamo consolare, o Signore. Dell'abuso delle tue grazie ti vogliamo consolare, o Signore. Degli insulti fatti alla tua divinità ti vogliamo consolare, o Signore. Della mala tristezza che ti cagiona la perdita delle anime ti vogliamo consolare, o Signore. Dell'indifferenza dei tuoi amici ti vogliamo consolare, o Signore. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. Settima stazione Gesù cade la seconda volta. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Signore Gesù, hai voluto prendere su di te la nostra misera natura, ed ecco dove ti porta la nostra debolezza. Ricadi sotto la croce, pesantemente, dolorosamente, ma tu sei la guida, ed ecco ti rialzi e riprendi il cammino. Sono caduto anch'io Gesù, ma han tradito l'orgoglio, la sensualità, l'egoismo, la leggerezza. Sono caduto, ma se mi guardi, riprendo a camminare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per lottare e vincere nelle tentazioni e nei pericoli, confortaci Gesù. Nelle ore della tristezza e della tribolazione, confortaci Gesù. Quando l'incomprensione ci butta a terra, confortaci Gesù. Quando non riusciamo a mantenere le promesse, confortaci Gesù. Quando siamo tentati di buttar via la croce, confortaci Gesù. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. Ottava stazione Gesù incontra le pie donne. Santa Madre, devo i fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Gesù, Signore, hai detto alle donne, piangete sui vostri figli. C'ero anch'io tra quei figli. Mi conturba di essere costato sangue, il tuo. E lacrime di Maria, della Chiesa, mia madre. Ti chiedo scusa per tutte le sofferenze che io e i miei fratelli abbiamo richiesto alle nostre madri. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonaci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Di tutti coloro che sono perseguitati per la fede e la giustizia, abbi pietà, o Signore. Di quelli che soffrono nel corpo e nello spirito, abbi pietà, o Signore. Di tutti gli esuli lontani dalle loro famiglie, abbi pietà, o Signore. Di tutti coloro che sono senza pane e senza lavoro, abbi pietà, o Signore. Di tutti coloro che sono nella tristezza, abbi pietà, o Signore. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. Nona stazione. Gesù cade la terza volta. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Signore mio, Gesù, è la terza volta che ti vedo a terra, sotto la più pesante croce. Lo so, vuoi dirmi che sei più volte sono caduto io, vinto dal peccato, ma ancora tu sai perdonare. I tuoi occhi mi cercano per ispirarmi fiducia. Mi tormenta la mia croce, Signore, non ho più coraggio. Poi guardo i tuoi occhi che mi cercano e riprendo a camminare fin sul Calvario, dove tu sei sempre in agonia per farmi coraggio a vivere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Di tutti quelli che hanno apostatato dalla fede, abbi pietà, o Signore. Di tutte le anime che si ostinano al peccato, abbi pietà, o Signore. Di tutti i bambini vittime della cattiveria e della corruzione, abbi pietà, o Signore. Di tutti coloro che rifiutano la tua grazia, abbi pietà, o Signore. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. Decima stazione, Gesù spogliato. Santa Madre, devo i fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nessuno, Gesù, ti dona un velo per coprirti. Eppure, hai promesso il Paradiso a chi rivestirà un ignudo. Abbi pietà, Signore, di quella folla e di noi che, con l'artificio della nostra cattiveria, strappiamo le vesti candide delle anime. Di noi, abbi pietà, che non ci vergogniamo di lasciar vivere nella miseria dell'anime e del corpo tanti fratelli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarsi alla tentazione, ma liberaci dal male. Ami. La nostra mancanza di generosità, perdona, oh Signore. Le nostre immodestie e mancanza di mortificazione, perdona, oh Signore. Le insidie e tese della corruzione alle anime innocenti, perdona, oh Signore. Gli scandali pubblici e le brutture della vita mondana, perdona, oh Signore. L'impurità della stampa e degli spettacoli, perdona, oh Signore. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. Undicesima stazione Gesù inchiodato in croce Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quello che stanno facendo i tuoi crocifissori è atroce, ma io voglio assistere a questa scena, perché voglio capire che cosa ti ha fatto fare l'amore per me. Tra i colpi di martello la tua voce mormora Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. E così nel mistero della crudeltà umana si è inserita la tua misericordia e i tuoi carnefici sono al servizio del tuo amore. I miei tormenti, le mie ansie, i miei dolori, la solitudine e chi odifissi delle mie inquietudini possono essere al servizio dell'amore. Che io ti ami, Gesù, nella mia crocifissione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen. O popolo cristiano, che cosa potevo fare per te e non ho fatto? Dio Santo, abbi pietà di noi. Ho offerto per te la mia vita come sacrificio e tu mi schiaffeggi con le tue colpe. Dio Santo, abbi pietà di noi. Ti ho lasciato i sacramenti e tu mi offri fiela. Dio Santo, abbi pietà di noi. Perché con i tuoi peccati rinnovi i dolori della mia passione. Dio Santo, abbi pietà di noi. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. dodicesima stazione, Gesù muore in croce. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Mi metto anch'io, Gesù, sotto la tua croce. Tu ed io sappiamo accanto a chi. Voglio il dolore della maddalena, la fede del buon ladrone, la pietà della tua madre. Ma ho un cuore troppo piccolo e troppo freddo. Gesù, ti scongiuro, non lasciarmi scendere dal Calvario col dubbio in cuore. Fa che ti possa dire con perfetta sincerità ti amo con tutto il cuore. Allora potrò scendere, sostenendomi e sostenendo la tua madre, che ora è anche la mia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Anima di Dio, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Ricordati di me, o Signore, nel tuo regno. Santa Madre del Signore, le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. Tredicesima stazione Gesù deposto dalla croce. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Le tue braccia aperte, i tuoi gesti d'amore per il tuo Gesù sono inutili, Maria. Calata dalla croce, scesa nel sepolcro, ne è uscito e l'accolgono i cieli. Quel posto è nostro per noi rimasti a combattere, a soffrire, a piangere. O, se vuoi, Maria, Madre nostra, tra le tue braccia tienici stretti insieme a Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Cuore di Gesù Salvezza di quelli che sperano in te Abbi pietà di noi. Cuore di Gesù Speranza di chi muore in te Abbi pietà di noi. Santa Madre del Signore Le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi. Quattordicesima stazione Gesù nel sepolcro Santa Madre De voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Il tuo sepolcro è troppo freddo Gesù e non è tuo. Vieni nel mio cuore è tuo e ti ama. Hai visto che ti ho seguito e mi sono aggrappato alla tua croce. Ora rendimi la visita vieni. Io so Gesù che tu sei semi di risurrezione resta con me fino all'ora in cui potrò vederti nel gaudi del cielo dove tu sei sempre il risuoto e anch'io sarò con te. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonaci la tentazione ma liberaci dal male e ami. O Gesù luce vera abbi pietà di noi O Gesù Dio della pace abbi pietà di noi O Gesù nostro rifugio abbi pietà di noi O Gesù buon pastore abbi pietà di noi O Gesù via vita nostra abbi pietà di noi Santa Madre del Signore le sue piaghe dolorose segna tu dentro di noi Preghiamo O Padre che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio concidi a noi che abbiamo ricevuti in terra il suo mistero di amore di godere i frutti della redenzione in cielo Per Cristo nostro Signore Amen Secondo le intenzioni del Santo Padre Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci del male Amen Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen